Repubblica è una parola che mi piace molto. Vuol dire poter vivere e parlare liberamente, vendere o comprare, ubriacarsi o essere sobri a seconda dei gusti. Certe parole ti danno una certa sensazione. Repubblica è una di quelle parole che mi danno un groppo alla gola. Lo stesso groppo che un uomo sente quando il suo bambino fa i primi passi o il suo primogenito si rade o dice la prima parola da uomo. Certe parole ti danno un senso come se ti scaldassero il cuore. Repubblica è una di queste parole.